Non c'è solo la Ferrari che va a 400 km all'ora, c'è anche Domus Sicula che va a 400 cannoli all'ora. Un grandissimo successo, la seconda edizione che ha dei cannoli solidari in collaborazione con l'associazione Pezzio Bellotti sotto i potici del municipio. Insomma c'è stato un altro grande successo, Presidente. Grandissimo successo, siamo quasi circa 1200 cannoli, quindi il top della volta scorsa. Per noi è stato ovviamente un piacere aiutare sia il gruppo di Domenia sia il gruppo solidale, in quante fonti verranno ovviamente destinati alle famiglie che hanno necessità economiche in questo particolare momento storico. Dopo già quello che era stato donato due settimane fa, il contributo di oggi, i buoni spese a Verbagna, insomma la Domus Sicula si conferma molto attiva, adesso il prossimo obiettivo è il 4 di luglio il Commissario Montalbana. Sì, è stata una grande emozione, 1200 cannoli, record in tre ore. Ringrazio a tutti gli ominesi, i partecipanti, le associazioni, tutti e due e il mio staff. Grazie con grande cuore.